donna moncè donna moncè chi avete fatto? insomma ti vuoi impicciare dei fatti tuoi si o no? ehi calma calma fatti tuoi non fatti tuoi ma perché sono fatti vostri e questi sono fatti del rione io non posso soffrire che quei due poveri giovani devono andando e le moscinando per un poco di amore e io non ho capito che cosa aspettano se sono maggiore e ne si vogliono bene si fa un resto no? certo che se io fossi nei bambini della ragazza si aspetterei la carrozza è proprio vero che il padre eterno manda i confetti a chi non tiene i denti per rosicarseli io sono giovane a me il sangue mi bolle e se stai tanto preoccupata pensa a trovarlo per te un marito ah io vero e per chi mi avete preso io per regola di norma vostra i due amici lo apprezzo così con la lingua da fuori e li faccio morire spandecati di che scia scia non fai per me se ne vede una concetta trova di un marito cosa da pazzi che gente grazie a tutti grazie a tutti grazie